Sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa a Matera le novità del servizio di igiene urbana dopo l'approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento per l'istituzione del primo ispettore ambientale volontario. Una sentinella dell'ambiente, un custode della comunità e quindi riferito al decoro urbano naturalmente. Un provvedimento nuovo per la città di Matera ma non è nuovo perché è una figura che comunque è già presente in tantissimi comuni d'Italia. Si è parlato anche dei servizi aggiuntivi messi in campo dall'amministrazione comunale per migliorare il decoro urbano nelle zone di maggiore affluenza turistica con pulizie più frequenti delle strade, ottimizzando altresì la raccolta porta a porta sulle utenze non domestiche. Questo regolamento prende anche spunto da una mozione fatta nel 2016 dalla precedente amministrazione e vuole cercare di elevare sempre di più con la coscienza civica. E' quella collaborazione tra cittadini attraverso le associazioni per migliorare il decoro urbano. Soprattutto in una città come Matera, una città ormai sempre più piena di turisti, quindi molto visitata. E' necessario mettere in atto tutte quelle procedure e comunque quei comportamenti che puntano a rendere questa città sempre più attrattiva.